non riesco a mettere la cover vuoi una mano a mettere la cover? nè sei una schiappa, tieni qua ciao è un nuovo telefono stiamo registrando con quello vecchio vai della mano inserite la cover, lo puoi accendere noi come vedete frettolosi siamo in macchina nel parcheggio dell'Ocean con l'aria condizionata perché si muore di caldo a dolo andiamo sempre a prendere un fredme perché abbiamo visto cellulari eccezionali ci siamo trovati proprio bene è bellissimo e ora lo impostiamo ciao a tutti